Occasioni, ma Milan che comincia a farsi vedere con un po' più di costanza nell'area di rigore del Verona! E c'è il gol di Spagnoli! E il Milan che quindi concretizza questa presenza appunto in attacco degli ultimi minuti. Molto buono l'inserimento di Spagnoli. Torna dal primo minuto Pippo Lora con un assist, quindi molto buono l'inserimento del numero 10, Rosso Nero. Che ha trovato l'impatto giusto con il pallone. L'angolino lontano a battere Sluga che ha provato a distendersi, non c'è arrivato. Dunque il gol di Alberto Spagnoli per l'1-0 del Milan e ora sblocchiamo questa partita. Dobbiamo essere bravi ad approfittarne. Concretizzata la superiorità che stavamo portando nella metà campo dei padroni di casa. Prova a giocarla subito il Verona. Porta in avanti Cingaian! Grande chiusura di Cristal e su di vita. Poi lancio subito per Gans. Cade un giocatore del Verona. Siamo in due contro il portiere, siamo in due contro il portiere. Pettagna! 2-0 Milan! Andrea Pettagna su assist di Simone Andrea Gans. 1-2 importantissimo questo per i rossoneri. Molto molto bravi. Di essere pronti e concreti, attenti, concentrati, ad approfittare di ogni occasione. Scivolato Houston davanti a Simone Andrea Gans, che è stato bravo a mettergli pressione, a crederci. Mettere in difficoltà il difensore francese. Poi certamente generoso. Simone Andrea Gans altruista. Lasciato la palla del 2-0 a Pettagna, che da lì non poteva certo sbagliare. Dunque era il doppio dei rossoneri al 36esimo. Darli Zitelli ed esce Ovusu. Buono lo scambio, pedone dentro l'area, dentro Spagnoli! La doppietta di Alberto Spagnoli per il 3-0 del Milan. E va dalla panchina a festeggiare Alberto Spagnoli. Giustamente. Va da Mister Dolcetti e poi da tutti i componenti della panchina. Doppietta importantissima questa per Alberto Spagnoli. Che in particolare va da Aniekan, ci sembra. A festeggiare. Dunque 3-0 per il Milan, che subito fa quello che doveva fare. Cioè farsi trovare pronto per chiudere in sostanza la partita. Per far sentire al Verona che c'è, che è presente. Per non fargli credere di potergli entrare in gara. Dunque, altri trattori.